Sono ben 550 le donne che nell'ultimo biennio hanno gridato aiuto ai quattro centri antiviolenza in provincia di Varese. 22 quelle per cui è stato necessario il trasferimento nelle case rifugio a tutela della loro incolumità e a volte anche accompagnate da minori. Un supporto dato grazie ad un'affitta rete che coinvolge 115 comuni, forze dell'ordine, ATS e ospedali. Prezioso anche il contributo di associazioni come Viva Vittoria approdata nella città Giardino dopo la chiamata dell'Uragano Antonia, come è stata definita da tutti, e dell'Associazione Colori del Mondo. Domenica 28 novembre tutti in Piazza Repubblica a Varese per un'iniziativa importante. Un intreccio di solidarietà ha dichiarato l'assessora del Comune di Varese, Rossella Di Maggio, che rende le donne sorelle delle vittime di violenza. Questa è un'iniziativa alla quale il Comune di Varese tiene molto e si svolge all'interno di quello che Viva Vittoria, che è un'associazione di donne, ha fatto in molte altre città d'Italia. Dopo mesi di lavoro, le volontari hanno realizzato migliaia di quadrati di maglia e altrettante coperte, che verranno venduti domenica dalle nove del mattino nella centrale Piazza Repubblica di Varese, raccogliendo fondi a favore dei centri antiviolenza. Occorre tener conto, ha ricordato l'assessora Di Maggio, che prima di fare i conti con i maltrattamenti fisici, molte donne devono subire quelli economici e psicologici. Motivo in più per essere presenti all'evento di Domenica 28, come rimarca Cristina Begni, presidente e fondatrice dell'associazione Viva Vittoria. Abbiamo realizzato circa 6.000 quadrati, quindi vuol dire che almeno 5.000 persone hanno realizzato almeno un quadrato, sono state anche molto di più comunque. E poi abbiamo quasi 1.350 coperte pronte, cucite, che stenderemo il 28 in Piazza Repubblica. Nel team anche il volto di striscia, Max Laudadio, che domenica sarà in piazza per incontrare il pubblico, animare la giornata e incoraggiare gli acquisti. Mi dà grande gioia una manifestazione del genere, perché vuol dire l'unione di tante coscienze, di tante manualità, di provenienze diverse, eccetera. E la stessa manifestazione mi crea anche un po' di tristezza, perché dover continuare a parlare di un argomento del genere è veramente assurdo nel 2021. Detto questo, l'importante in questo momento è comunicare che bisogna dire basta la violenza sulle donne. Quindi domenica 28 dalle 9 alle 19 vi aspettiamo, io sarò lì, anche a tentare di convincere le persone a comprare tutte le coperte fatte. Grazie.